salve e bentrovati a questa nostra nuova puntata della rubrica salus vado subito a dare il benvenuto al mio ospite il dottor zara medico chiurgo dell'equipe di ortopedia e traumatologia che ha come responsabile qui verso la casa di cura salus di battipaglia il dottor notar francesco salve allora oggi parliamo insomma di un argomento abbiamo preso spunto dalla nostra diretta facebook ricordo sempre la nostra insomma telespettatori che ci possono seguire sia su instagram che su facebook dell'acido ionoronico che più spesso insomma è visto nella chirurgia estetica è molto inflazionato invece in questa diretta facebook abbiamo scoperto grazie al dottor zara che viene utilizzato anche in realtà in ortopedia giusto dottor zara decisamente sì un argomento molto gettonato in varie branche della medicina tra le quali quella estetica ma anche in ortopedia trova applicazione per la cura di alcune patologie quindi si tratta di una tecnica infiltrativa giusto quali sono i benefici insomma dell'acido ionoronico come tecnica infiltrativa voglio voglio premettere che l'acido ionoronico è una sostanza a produzione endogena che viene prodotto in molti tessuti del nostro organismo tra i quali i tessuti connettivi in particolar modo nelle articolazioni ha un ruolo fondamentale per diversi ordini di motivi sia perché è componente della matrice extracellulare della cartilagine stessa e sia perché viene prodotto dal liquido sinoviale e viene a essere un metabolismo molto importante dell'articolazione nelle articolazioni danneggiate dai processi dei processi condropatici noi troviamo applicazione con dei cicli infiltrativi quindi quali sono le patologie o i disturbi per cui sono indicate queste infiltrazioni di acido ionoronico parliamo di condropatie cioè di patologie in cui vi è un'usura della cartilagine articolare dagli ultimi dagli ultimi esperimenti si è visto che la patologia cartilagine prevede la perdita della cartilagine stessa ma anche un disequilibrio di tutte le componenti dell'articolazione cioè il liquido sinoviale ma anche la membrana sinoviale di conseguenza le infiltrazioni di acido ionoronico insieme alla terapia medica e alla terapia fisica come la fisioterapia trova indicazione proprio per cercare di mantenere un equilibrio tra la viscosupplementazione e la viscoinduzione ecco dottor zara come si svolge questa infiltrazione che durata se va ripetuto così magari diamo delle informazioni utili insomma a chi ci ascolta esistono diversi prodotti che vengono utilizzati a scopo industriale che si differenziano tra loro sia per il peso molecolare quindi il volume dell'acido ialuronico stesso ma anche per la forma dell'acido ialuronico che può essere lineare o cross linkato queste questo e questi tipi di prodotti vengono scelti in base al paziente a livello di condropatia e sviluppati con dei cicli infiltrativi da 3 a 5 applicazioni ecco un'ultima domanda noi abbiamo parlato in una delle scorse puntate proprio con il dottor zara del prp che anche praticamente risulta essere un infiltrazione sempre per ridurre insomma il dolore migliorare la funzionalità dell'arto qual è la differenza allora fra il prp e l'acido ialuronico e quando si sceglie l'una piuttosto che l'altra si anche il plasma ricco in piastrine e cioè il prp viene utilizzato a scopo infiltrativo è chiaro che lo step del prp è uno step successivo di trattamento in quanto l'acido ialuronico viene utilizzato nelle condropatie in fase iniziale mentre il plasma ricco in piastrine può essere utilizzato nelle patologie un po più avanzate in sé lo scopo del trattamento è lo stesso cioè cercare di ridare all'articolazione una buona funzionalità una diminuzione del dolore che si riflette su un grado di soddisfazione del paziente ma il plasma ricco in piastrine è una terapia più efficace biologica in quanto il prelievo viene eseguito dallo stesso paziente mentre nell'acido ialuronico il prodotto è di derivazione esogena quindi industriale e si è visto anche dagli ultimi studi scientifici che il risultato tra acido ialuronico e plasma ricco in piastrine è un risultato nettamente a favore del plasma ricco in piastrine quindi nei nostri pazienti utilizziamo come primo step di trattamento l'acido ialuronico portando a eseguire dalle 3 alle 5 infiltrazioni intraarticolari nel caso il paziente non ha un beneficio passiamo al secondo step cioè con il plasma ricco in piastrine saluto e ringrazio insomma il dottor zara che è sempre così cortese insomma di accettare il nostro invito grazie a voi ringrazio voi tutti che ci avete seguito e vi ricordo insomma di seguire sempre le nostre pagine sia facebook che instagram e vi do appuntamento alla prossima puntata